Non si può certo dire che Monsignor Scarano toglieva i ricchi per dare ai poveri. Stamane è stato sequestrato l'intero impero patrimoniale del sacerdote. L'operazione è scattata all'alba ed eseguita dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Salerno. Il decreto di sequestro è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Beni immobili, immobili, quote societarie e disponibilità liquide rinvenute su conti correnti riconducibili a Scarano sono stati sequestrati. Dopo che il 21 gennaio scorso era già stata adottata la misura restrittiva della libertà personale nei confronti dell'indagato ponendo sotto sequestro buona parte del patrimonio di Scarano in quanto ritenuto il prodotto del reato di riciclaggio. Si trattava di un lussuoso appartamento in via Romualdo a Salerno, residenza di Scarano, ma anche di un altro appartamento in via Tanagro, sempre a Salerno, di un box, oltre che rapporti finanziari per oltre 3 milioni di euro. I militari delle Fiamme Gialle oggi hanno apposto un nuovo titolo di sequestro sui beni e sulle disponibilità appena descritte ed hanno proceduto ad assoggettare a cautela reale anche un altro appartamento ubicato sempre in via Romualdo a Salerno, composto da 8 vani, una porzione di appartamento in largo Santoro-Faiella, sempre a Salerno, è composto da 5 vani, un'autovettura Mercedes classe A 180 CDI, un Volkswagen Caddy, oltre al sequestro del 99% del capitale della Nuen SRL, società edile intestata allo stesso Scarano. Grazie a tutti.